Allora vi ricorderete ieri il DAX avevamo commentato che era intrappolato tra la volatility stop line la linea rossa tratteggiata e la media 200 periodi questo è il grafico intraday a due ore dell'indice ebbene oggi ha continuato in perterrito a oscillare all'interno di questi due valori. Questa dove sono adesso la prima candela della giornata quella delle nove è una candela che stava dando l'impressione di voler rompere il rialzo questo è il classico look above and fail cioè mette il naso fuori ed è un fail or torna dentro e riparte verso il basso riparte verso il basso arriva sui supporti si ferma e riparte verso l'alto. Queste sono le rotazioni che abbiamo visto tante volte le abbiamo viste in questa fase questa tra il 24 luglio e il 29 luglio più continuano più sarà importante l'uscita nel senso sarà profonda se verso il basso o sarà elevata nel caso di un'uscita verso l'alto. Nel caso del precedente come vedete poi c'è stato uno scarico verso il basso fate conto che questo sia come una molla che si carica quindi tutte queste sono rotazioni che vanno in questo senso. I segnali alla fine si equivalgono perché questo era stato un segnale pesantemente ribassista quello delle prime quattro ore però poi nella realtà arrivati sotto certi livelli i venditori sono spariti e quindi il pallino è ritornato ai bull che sono riusciti a riportare i prezzi pari pari verso 12,7. Quindi siamo ancora qua dentro 12,5 e 12,7 questo è il DAX vedete che la DX continua a scendere e testimonia confermando la mancanza di direzionalità i due DMI si sono appaiati quindi sono pronti adesso al prossimo segnale. Inserisco i disegni che confermano i livelli grafici di resistenza 12,7 e anche resistenza grafica oltre che il livello della volatilità stop line. In basso il supporto più importante di tipo grafico è a 12,3 e poi sotto 12.000 se dovessimo rompere 12,8 si apre chiaramente di nuovo la strada al prima di tutto questo gap quello del 23 di luglio in area 13.000. In il Futsi Mib chi ha visto il video di ieri commentavamo che era assolutamente schiacciato qui tra, tolgo un attimo i disegni per far vedere meglio, volatilità di stop line e media 200 periodi praticamente sovrapposte e i prezzi schiacciati all'interno per tutta la giornata. Oggi stesso copione del DAX tentativo di uscire verso l'alto, poi è partito verso il giù, è rimasto un po' più schiacciato verso il basso, il Futsi Mib sta sottoperformando in questo periodo rispetto agli altri indici europei e quindi volendo i primi supporti li avrebbe rotti perché comunque si è portato sotto entrambi questi due indicatori che sono abbastanza significativi, rimettiamo un attimo i disegni e quindi siamo già a 19,3 come supporto grafico, per cui maggiore debolezza sull'indice italiano. L'America continua a vivere, sembra un altro pianeta, un'altra realtà, noi siamo completamente dissociati in questo momento, tra l'altro chi ha seguito il video di ieri notavamo che c'era, il Nasdaq si era fermato e il Russell invece faceva il più 2, oggi si sono invertiti, Nasdaq più 1,3 e il Russell si è fermato. Quindi mediamente un giorno sale uno, un giorno sale l'altro, l'indice S&P che li ha dentro tutti quanti si fa il suo solito mezzo punto al giorno, è arrivato a 3,343 e il Dow Jones a 27,390. Questi sono gli ETF, gli manca 1,0 ma aggiungendo 1,0 replicano l'indice questi ETF. Faccio notare i volumi, faccio notare i volumi, quindi nuovi massimi del Dow Jones, nuovi massimi di periodo senza volumi, con i dati macro lasciamo stare perché noi comunque ci occupiamo di analisi tecnica, ma oggi l'economia, questo andamento dei mercati festeggia il fatto che si sono aggiunti oggi un milione e centomila circa nuovi disoccupati invece di un milione e quattro previsto. Anche questa settimana l'economia americana ha prodotto un milione di disoccupati, che sono comunque livelli altissimi, record, stiamo andando avanti a questi ritmi ormai da mesi, il totale dei disoccupati supera i 30 milioni e abbiamo i mercati ai massimi. Quindi in questa situazione surreale andiamo adesso a vedere a grande richiesta cosa sta facendo il petrolio, perché ieri è arrivata una segnalazione che ci potrebbe essere qualche novità sul fronte del petrolio, passiamo al grafico daily per far vedere un attimo il future, ho preso la scadenza ottobre perché quella più vicina è sempre un po' condizionata da turbulenze recenti tra contango e backwardation, quindi guardiamo ottobre e allora ieri in realtà sì c'è stato un accenno di break della resistenza 42,5, però vedete che poi è rientrato, cioè queste comunque sono candele con una shadow abbastanza pronunciata e oggi fondamentalmente siamo rimasti là, 42,5, quindi non vedo questi movimenti, da un punto di vista tecnico non vedo particolari tensioni. Siamo, faccio notare, perché ora poi lo guarderemo anche con i titoli, prendiamo come riferimento questo gap, questo è il gap tra i 6 e il 9 marzo quando fu annunciata la rottura delle trattative tra Arabia Saudita, Russia, eccetera, chi se lo ricorda, a cavallo di quel weekend i pressi del petrolio crollarono e quindi tutto il settore venne giù, questo gheppone, ecco il petrolio, questo future ancora non riesce a ricoprirlo completamente, non riesce a superarlo e stiamo arrivando sulla media a 200 periodi, quindi anche il petrolio volendo rimane intrappolato qua dentro, vedete, una situazione simile a quella di altri strumenti, quindi stiamo arrivando a un, secondo me, un punto un po' di svolta, no? Quindi si stanno un attimino incanalando alcuni strumenti verso delle aree dove ci attendiamo poi un movimento. Quindi questo è, diciamo, la materia prima. Poi andiamo a vedere i singoli titoli. Cominciamo da Eni. Ecco, vi faccio notare, allora, a parte la rottura della volatilità di stop line e la rossa che ha preso inclinazione negativa, la fascia di supporto, questa è molto importante, dove c'è stato questo strappo a rialzo, questo ancora nel lontano 23 marzo, ormai lontano, e tre giorni fa, dopo il break della volatilità di stop line, si è arrivato in quell'area, c'è stata reazione, un rimbalzo, ma l'impostazione di Eni, io qua non vedo questi segnali bullish che dicono alcuni nostri amici. Da un punto di vista tecnico, secondo me, ancora qui non c'è niente. Vedete il gap, vedete dove sono adesso, del famoso 6 marzo, è a 9,6, mentre il future, come avete visto, è già, in pratica, su questi livelli, sulla close del 6 marzo, guardate Eni, a che distanza è. Cioè, quel livello è a 9,7, Eni sta a 7,9,8. Poi veniva richiesto anche Sub C7, un altro titolo del settore, prendiamo sempre come riferimento il gap, ecco, guardate, questo è già più vicino, c'è un andamento molto simile a quello del future, però anche qui non vedo un uptrend galoppante, vedo un trend laterale con una modesta inclinazione positiva, basta guardare la volatilità di stop line e stiamo arrivando alla resa dei conti, perché fra un po' si stringe questo imbuto con la media a 200, quindi vedremo da che parte poi uscirà. la situazione di Nabors Industries non è molto diversa, qui ha rotto al rialzo la volatilità di stop line, che però era negativa, e quindi siamo anche qui poco sopra questo famoso gap del 6 marzo, la nostra Saipem, direi male, no? quindi 1,9, il gap si trova a 2,7, quindi diciamo di tutti quanti è quello forse messo un po' peggio, faccio notare qui questo gravestone d'oggi con una importante ombra che ha segnato un po' la fine di questo mini rally nella giornata dell'8 giugno, che è andato proprio a chiudere il gap e da lì poi è partito il movimento a ribasso, quindi in sostanza, in risposta ai nostri amici, per il momento io non vedo particolari segnali di entusiasmo sul settore petrolifero, comunque lo staremo a monitorare qualora dovessero esserci delle novità nei prossimi giorni. Va bene, tutto per oggi, ci aggiorniamo a domani, lasciatemi pure sotto i vostri commenti o particolari richieste, così vedremo di dare seguito nel corso delle prossime analisi. Grazie per l'attenzione.